Quando sono partita ho deciso che volevo fare qualcosa di grande, volevo fare qualcosa veramente in grande. Si trova a Bologna, veramente una grandissima città, una città non perché è a passaduomo, perché è piccola, però è una città che è piena di vita. Abbiamo un sacco di esperienze, tanti anni, abbiamo un staff di docenti meravigliosi, altamente preparati, abbiamo uno spazio bellissimo. Noi riempiamo il giorno di un allievo di esperienze di vita e anche di educazione. Noi riempiamo il giorno di un allievo di esperienze di un allievo di esperienze. La loro energia ti gasa, ti fa produrre sempre di più, sempre di più. Avevo tale amore per quello che stavo facendo e tale entusiasmo per questi ragazzi che erano, wow, questo è bellissimo. Noi, cioè vai con loro, vai con loro, è sempre stato così. Però sì, io e Sean abbiamo un'enorme passione per questo lavoro, un enorme amore per i nostri allievi. Ci teniamo molto e facciamo di tutto per loro. Da qui era il passo successivo di questo riconoscimento della laurea breve. Avere una laurea breve apre un mondo di possibilità per l'allievo. Oltre a rivestire un momento di soddisfazione professionale e umano, dopo tanti anni di studio, intenso studio, si troverà un riconoscimento che lui può spendere. Ci vuole passione e amore per quello che vuoi. Oltre al talento, perché il talento è la prima cosa che noti. Perché le ore sono tante, le materie sono tre, più tutte le altre materie secondarie. e tu sei sempre lì e se ami quello che fai non pesa. Il primo posto per me è sempre e sarà sempre l'allievo. Sempre. Oltretutto. È un'angoscia, è un amore, è una lotta, ti arrabbi, piangi. Però sono sempre in prima, primissima loro. È sempre stato così. La BSMT. Illumina il tuo futuro. Il tuo futuro. Il tuo futuro. Grazie a tutti.